ah buongiorno buongiorno un tazzo come va tutto bene coccodrilli siamo carichi stamattina o no chissà la che c'è sì sì è venerdì no vabbè sta pieno rock chi è anche il cane sta pieno mamma mia sta pieno veramente di figa è una cosa spropositò pilapitapita mamma mia mattina si parte subito con un buon profumo un po' di schiso oggi cambiamo ancora 704 vi ricordo che sono 5 fragranze unisex vi lascio la mail contattatele sempre avevo lasciato il latte affreddare oggi ho bevuto non ce la faccio sto bevendo latte di riso dopo sta cazzata solo oggi solo per oggi chi acquista 50.000 tazze in contanti ne riceverà mezza spaccata in omaggio dite che non faccio le offerte tutto quanto cioè questa è offerta il limitata anzi 50.000 tazze cash mezza spaccata qua a metà in omaggio quindi più di così non posso fare ogni mattina voglio controllare il mio parvolo eccolo dormi come una pera cotta eccolo posso pia la macchina tua sfondo il garage la posso pia non ho capito niente posso pia la macchina tua che ne so io volevo volevo abbozzarla tutta spaccarla tutta posso pia la volevo spaccata tutta bello piccolino sì 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 è venerdì mamma mia quanto è reattivo è super e io il venerdì dove andrà vaffanculo oh anche il sì 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 è venerdì vaffanculo eccolo qui partiamo subito belli cari ma guarda come un po le scale diverse il rosario con san giovanni paolo secondo alle ore 6 e 10 la luce nella tempesta a cura di padre livio mi sto informato e stasera perché è venerdì quindi sento radio maria non si può fare altro auguriamo un buon proseguimento di giornata all'ascolto dei programmi di radio maria e beh tanto potremmo farlo c'è la cristiana della cristiana della cristiana francesca sant'anna gloriosa se fa il cazzo tutto dio perdona la rampa di ponte san giovanni no sempre piena sta pieno anche qua sta pieno sulla rampa sta pieno pozza fan vomito le spaghetti ricordatevi che oggi è sì 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 è venerdì ora andiamo avanti con le vostre storie e buona giornata a tutti coccodrilli buona giornata no buon lavoro buona giornata senti quanto suona bene ti viene anche il sole addosso vanno lì sembro johnny depo tira bacio guarda se non ci sono chiappate così lu zero zero eccolo accio man incredibile guardate accio ma molto funky col ciuffo così spetta sì coccodrilli questa persona merita un tag perché si è tatuato arzughe sul braccio tatuaggio vero grande andrea sei il numero uno dei scemi attenzione attenzione vedo una razza di coccodrillo ammaestrato eccolo tira su sta spalliera se non scendo subito eh tira su sta spalliera se non scendo no no e chi ci ha montato dentro sta macchina una scrofa ma perché e per la spalliera tutta giù e quindi mi ha preso la posizione di che da che de tromba nooo no si no no che cazzo mi hai portato vedi o no io la sorca la porto di qui la sorca porta l'antolletto guarda 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 panorama tac assisi si si ma vedi e quando stai con una bella sorca quando stai con una bella sorca non è da guardare il panorama che il panorama ce l'ha lì a luci l'ha tra le gambe incredibile tempi hanno cambiato la figa vuole vedere il panorama ha la fortezza ma c'è il panorama ti puoi fare così l'abbraccio poi ti dico io non cammina scemo hai capito si come no e dopo c'è il panorama devi fare così l'abbraccio l'abbraccio scendo addio no davanti alla basilica no ma ti sto a fare il movimento che fa ma ti sto a fare il movimento che fa quando stai tu che facevi e io facevo come facevo 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 e facevo dimmi dimmi all'inizio no perché io sono romanticone guardaia che sega ma perché gli fa vedere la chiesa si fai vedere la cappella no la chiesa no vabbè questa ti rendi conto quel che dici ma io dico bene eh cioè voi siete d'accordo io sono l'antica boh io sono la moderna allora tu sei la moderna è vero eh io sarò antico ma ma io tutte queste piambre ne le facevo fa e chi faceva e trombavo si trombone trombone allora trombone guarda 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 che bello guarda sì sì bello bello lampo così ah porca ma oh si fa un po così è da sta fermo ma l'abbraccio no no l'ha detta l'ha detta questo è var var incredibile direttamente sotto a sisi si è sposto no si è spostata la basilica più che altro ma perché era scalzo porta via con sta macchina scenduta no 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 comunque non so se vi è piaciuta la dimostrazione di no due due generazioni due generi di comportamento a confronto vero no oh sì 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 basta che basta che ti è dietro tu hai ma di questo periodo la basilica spenta è o no eh mamma mia ragazzi però noi siamo qui per strapparvi un sorriso è vero certo quindi ragazzi forza di un forza dai dai e dai e dai e carica da sti coccodrilli la gente c'ha bisogno di questo bisogna essere carichi sempre ragazzi carichi sempre testa mentalità e via quello che succede succede forza di un po' sì forza forza e coraggio quindi forza 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 vabbè ho un po' di forza perché nonno fa ossino ha detto che davanti a sta porta ci ha trombato è vero oh è vero no 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 che c'è fatto non fa il furbo mi sono ritornato che c'è oh oh no oh no guarda come ride sotto i basi che c'è fatto oh oh no vado a gi a rubi coglioni è vero ragazzi è da me fermati che è una gente che questo è scemo io fanno carezza ma come mangelate mettendo il collo ma sente ma sciante di coglioni sono accampato ah 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 manco di cuoio di che è che cuoio è ma che cuoio è che pelle Siamo belli di pulizie con questa felpa, fa vedere se avete bisogno di un consiglio di moda Chiara Carli, se i vostri tarzanelli sono intrecciati Chiara Carli, la potete riconoscere perché dice ciao ragazzi oggi vi volevo parlare di questa felpa perché io sono Chiara Carli, Eccomi qua perché e vo vo i e e e e Adrilli adoro fare queste cose, autoinvitarmi a cena della gente portando da mangiare a casa di mio amico, gli ho detto non vengo non vengo, poi zacchete, arrivo, vediamo la sua reazione poi lo conoscete Eccolo, sei contento che sia venuto? Ce l'è? Te l'aspettavi? Te l'aspettavi o no? Dove sei stato? Eh mica, è arrivato anche lui, ce l'è? Grazie eh, io mi sono portato il pollo al carli Eccolo, guardate e sottotitolo, guardate e sottotitolo, guardate, guardate il pollo al carli Quima, guardate Grazie a tutti Grazie a tutti